. GF VIP 2, Luca Onestini si è fidanzato con Ivana Marazzova. . Dopo luscita dal Grande Fratello VIP, Luca Onestini si è fidanzato con Ivana Marazzova. . Cancelletto Luca Onestini e Cancelletto Ivana Marazzova si sono conosciuti grazie al Grande Fratello VIP. Tra i due è nata subito un'ottima sintonia da cui sarebbe potuta nascere una storia. Tuttavia, c'è un particolare non trascurabile, la Marazzova è fidanzata. . Onestini ha dichiarato di rispettare il fidanzamento della ragazza, mentre lei, pur parlando sempre bene del suo ragazzo, ha confessato di non sapere cosa sarebbe successo, una volta uscita dalla casa del GF VIP. . Molti avrebbero voluto vedere una storia tra i due nel programma, cosa che invece non è accaduta. Entrambi ono usciti dalla casa e le cose potrebbero essere cambiate. . . . Vi sono infatti alcuni indizi che farebbero pensare che tra i due stia nascendo un sentimento. . Luca e Ivana hanno trascorso una bella serata, in compagnia anche di Raffaello Tonon, Video, e Aida Iespica. La cena è avvenuta dopo la registrazione di Verissimo. . 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